Sono Marco Castagnoli della Vita Trave SRL di Forlì, questo è il quarto anno che partecipiamo a Pro Light & Sound qui a Francoporte, la nostra azienda produce tralicci in alluminio, strutture in alluminio per il settore dello spettacolo e quest'anno abbiamo presentato una nuova versione del paranco elettrico Divo che è il nostro brand, è un brand che abbiamo portato qui in fiera fin dal 2009 e al quale abbiamo dedicato lo sviluppo in questi ultimi 4 anni, questa è la seconda versione di questo prodotto e la partecipazione a questa fiera ci ha portato buoni risultati sia in campo nazionale che internazionale. Unitamente a questo noi comunque promuoviamo la nostra attività principale che è quella di produttori di tralicci e di strutture e anche per questo la fiera è stata un buon trampolino di lancio per espandere le nostre prospettive di vendita anche all'estero.